Dalla riforma agraria degli anni 50 guidata da Paolo Bonomi alla legge di orientamento del 2000 all'inizio del nuovo millennio con il patto con il consumatore. Coldiretti ha festeggiato i suoi 80 anni al Teatro Eliseo di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 80 anni di storie e di battaglie per l'organizzazione agricola che oggi raccoglie il maggior numero di associati nel paese e che vede nei territori una forza attiva per la difesa degli agricoltori, dei loro redditi e la difesa dei consumatori. Una giornata straordinaria e emozionante rimarrà veramente un appuntamento difficilmente da dimenticare. Tra l'altro sicuramente impreziosito dalla presenza del Capo dello Stato che già nei momenti in cui doveva entrare quindi si poteva assaporare quello che erano veramente i contenuti dal grandissimo silenzio nell'attesa chiaramente dell'entrata del Capo dello Stato. Una giornata emozionante che ha comunque celebrato insomma tutti i soci, i dirigenti, i cittadini che per 80 anni comunque hanno conosciuto l'organizzazione, l'hanno accompagnata anche in diverse fasi della crescita. Vengono ancora i brividi a vedere filmati dove Bonomi in 80 anni, nel 1944, 80 anni fa era assolutamente visionario di quello che poteva succedere nel del corso degli anni e dei tempi. Sicuramente avendo tracciato anche sin dall'inizio una linea che non ha mai cambiato, è sempre stata molto cogente e concentrata sulla rappresentanza degli agricoltori, dei contadini. Noi siamo assolutamente orgogliosi e soddisfatti di rappresentare il mondo contadino al quale poi negli anni e con diciamo l'evolversi anche delle condizioni economiche, finanziarie e politiche, una organizzazione che ha saputo sempre comunque camminare nei tempi e oggi possiamo dire che siamo un sindacato imprenditoriale di filiera. Quindi abbiamo unito anche quella parte di rappresentanza e quella parte economica. Una giornata che lascerà sicuramente il segno perché nel dialogo e nel feedback è stato apprezzato tutto, soprattutto l'intervento del Capo dello Stato e del Presidente della Repubblica sicuramente sollecitati dalle introduzioni del Segretario Generale Giosmundo e dal nostro Presidente Prandini. I temi del 44 attuali ad oggi sono quelli che chiaramente portano avanti le politiche con grandissima determinazione, avendo anche fatto accenno a quali sono gli strumenti sulle quali si è camminato per formare questo momento in cui si decide e si cerca di essere sempre protagonisti. Il Cipro è protagonista, l'attività primaria degli agricoltori deve essere un'attività che deve avere una certa riconoscimento e una certa volontà di essere tenuta per altri miliardi di anni perché chiaramente sappiamo tutti l'importanza del cibo e dell'economia legata all'agroalimentare. I mercati di Campania Amica appunto sono uno strumento, li rappresentano anche la condizione economica dei nostri agricoltori perché i prezzi sono equi e perché poi c'è una garanzia sicuramente sulla salubrità. I mercati di Campania Amica sono diventati luogo di prossimità dove l'agricoltore mette veramente la faccia e costruisce quella che è la proposta e la vendita dei propri prodotti con l'anima, con il cuore. Situazioni sulle quali l'evoluzione anche europea ci ha portato oggi a chiedere con determinazione il principio di reciprocità, cioè sicuramente una grande apertura e visione. L'export per noi diventa una condizione importante, però sicuramente anche i prodotti sui quali noi magari possiamo avere in Italia devono essere comunque fatti con regole che sono uguali per tutti perché altrimenti poi il principio di reciprocità va a scemare e c'è una concorrenza sleale. Chiaramente il fatto della rivisitazione dell'ultima parte del codice doganale è una condizione sulla quale sicuramente dobbiamo tenere gli occhi ben aperti e dobbiamo rivendicare il fatto che l'ultima parte della lavorazione non può dare la sovranità ad un prodotto italiano che italiano non è. Ci sono sicuramente situazioni sulle quali stiamo lavorando e cercheremo di lavorare, non ultima è quella di preservare tutte le aree del territorio perché negli 80 anni è stato ricordato che silenziosamente gli agricoltori sono coloro che effettivamente vogliono bene e hanno una grandissima sensibilità e attenzione al territorio. A tutto questo sicuramente noi cerchiamo di essere conseguenziali e anche nella nostra grande città di Ferrara ma nel contesto degli 80 anni piccolo segmento parte però stiamo costruendo le solite ricorrenti giornate del ringraziamento. Stiamo preparando un appuntamento che sia degno della città di Ferrara con i soliti prodotti e il solito territorio che viene sicuramente presentato ai cittadini residenti che magari lo conoscono ma anche a coloro che sono in visita a Ferrara e quindi possono apprezzare anche i prodotti proprio dei nostri agricoltori. Dalle attività previste dal progetto di educazione campagna amica regionale rivolto alle scuole del territorio ferrarese alla dodicesima edizione del concorso pittorico rivolto sia agli studenti del dosso dossi che agli artisti. Sono i nuovi progetti in campo di col diretti donne imprese a Ferrara nei prossimi mesi. Il progetto rivolto alle scuole per l'anno 24 25 porta il titolo del per fare un frutto ci vuole un fiore dove parleremo di produzioni locali e di dieta mediterranea è un progetto trentennale che ha il patrocinio del ministero dell'istruzione e che ci permette di entrare nelle scuole di ogni ordine grado della provincia e di mettere in relazione il mondo della scuola con quello della campagna. In questo modo cerchiamo di sensibilizzare gli studenti alla sana alimentazione al rispetto del territorio. Questo progetto educativo rientra in quello più ampio di col diretti che è quello di una filiera tutta agricola e tutta italiana che fa sì che il consumatore sia sensibilizzato e capisca l'importanza della corretta alimentazione e della sostenibilità ambientale. Quanto è importante la dieta mediterranea? La dieta mediterranea è fondamentale per l'alimentazione secondo studi che sono stati fatti negli anni 60 ampiamente condivisi dalla comunità scientifica. Si è capito che nei popoli del bacino del mediterraneo che hanno dato poi il nome a questa dieta c'era un'altissima aspettativa di vita e una bassa incidenza di malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumore e alcune patologie croniche collegate proprio all'alimentazione. Parliamo dell'altra iniziativa che è un'iniziativa che riguarda più gli artisti? Sì, è un concorso pittorico che è alla dodicesima edizione ed è sempre un'iniziativa di Coldiretti Donne rivolto al liceo artistico Dossodossi e rivolto a tutti gli artisti del territorio. Anche qui mettiamo in relazione il cibo e l'agricoltura e il titolo di quest'anno è il cibo più copiato nel mondo e quello italiano una vera eccellenza. Già il titolo spiega ampiamente di che cosa si tratta. Il fenomeno che vogliamo esaminare è quello dell'Italian Sounding, ossia cibi copiati attraverso marchi, attraverso indicazioni geografiche, attraverso cromie che evocano il cibo italiano per commercializzare nel mondo un cibo che d'italiano non ha nulla. Per fare un esempio il 99% dei formaggi che vengono commercializzati negli Stati Uniti sono per così dire taroccati. Procede il lavoro con i programmi ben specifici di Coldiretti Giovani Impresa Ferrara. Dopo il cambio alla guida della segreteria passata a Marco Gelli, la forza giovane dell'organizzazione agricola ferrarese dette in agenda i futuri incontri ed eventi. I programmi per il futuro sono ripartiti da come ci eravamo lasciati durante l'assemblea del 31 di luglio a Porto Garibaldi, durante la nostra notte gialla. Diciamo che è stato un agosto diversamente da come si possa immaginare molto impegnativo, molto laborioso e molto anche positivo dal punto di vista conoscitivo dei ragazzi. Abbiamo fatto parecchi incontri in azienda, parecchi incontri anche in altre sedi per conoscerci e per programmare aspetti futuri, attività, corsi eccetera. La prossima attività che ci aspetta sono i corsi di bonifiche ferraresi che è il primo modulo che apre il 29-30 ottobre. Abbiamo sei nostri ragazzi che hanno avuto la possibilità e la bravura di vincere la borsa di studio, quindi parteciperanno a questi quattro moduli, in partenza come detto prima il 29-30 ottobre e l'ultimo modulo finisce il 10 e 11 dicembre. Avranno la possibilità di oltre di parare concetti nuovi, metodologie nuove come agricoltura di precisione, fertilizzazione e anche sistemi di supporto all'azienda, avranno anche la possibilità di mettersi a confronto con altri tecnici, altri collaboratori, altri agricoltori da altre parti d'Italia, perché è rivolto a livello nazionale a 100 ragazzi. Oltre a questo stiamo organizzando una visita a strutture, era sempre nel programma che era stato messo giù durante la nostra assemblee annuale. Stavamo pensando di andare alla centrale del latte di Cesena. L'altra attività che abbiamo in cantiere e che ci portiamo avanti dai mesi precedenti è una serata in collaborazione con l'Università di Ferrara, aperta oltre al gruppo giovani anche a chi volesse essere presente sulle cover crop, quindi sulle coltivazioni di copertura. Non ultimo, per importanza, ma anche questo prossimo avvento, sono le nostre giornate del ringraziamento, l'8, 9 e 10 novembre. Come gruppo giovani saremo protagonisti come ogni anno di molte attività, fra cui anche avremo il nostro spazio all'interno dell'inaugurazione del venerdì, dove al venerdì pomeriggio avremo un nostro convegno. Vi aspettiamo, numerosi!